I sindacati Gislefp, FlaicaCub, Wiltemp e Confsal Snalva hanno chiesto ufficialmente al sindaco Roberto Gambino di mettere a disposizione dei lavoratori della cooperativa S-Quadro una navetta che consenta a questi ultimi di raggiungere il centro di Pian del Lago, dove svolgono il servizio di assistenza e accoglienza ai migranti. Una richiesta che deriva dal mancato pagamento degli stipendi arretrati, il ritardo di ormai 5 mensilità, e molti lavoratori hanno di fatto fermato le loro vetture non potendo provvedere al pagamento dell'assicurazione e anche all'acquisto dei carburanti, preferendo impiegare i risparmi nei beni di prima necessità. Da martedì scorso i lavoratori dell'S-Quadro sono in sciopero e stanno continuando con l'iniziativa del presidio permanente davanti alla prefettura, in attesa di risposte soprattutto da parte della politica e delle istituzioni. Ieri fortunatamente su nostra sollecitazione è venuto il sindaco, noi lo ringraziamo per essere venuto lui qui e non averci convocato, è un gesto importante e ci ha promesso che farà di tutto per poter risolvere almeno questo problema di ordine pratico. Siamo ancora qui ad attendere risposte che non arrivano, soldi che non arrivano, ammortizzatori sociali che non arrivano, i lavoratori sono arrivati alla cogna, non si può andare più avanti, siamo qui, continueremo ad oltranza fino a quando qualcuno non ci darà udienza, risposte celeri, efficaci e soprattutto risolutive. Parliamo veramente di disperazione sociale, la disperazione sociale non appartiene solo ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, ma alla politica tutta. La politica oggi è stata, fino ad oggi, assente.